Quanti mesi ha, signor? No, eh. Merda, ma tu sei un giocatore professionista. In che squadra giocavi? Nel Bayern. Conosci Monaco di Baviera? Il Bayern di Monaco. Giocavi nel Bayern di Monaco. Pietro, cosa fai? Ma siete impazziti tutti e due? Mamma, ma lui giocava nel Bayern. Ma quale Bayern, quale Bayern? Guarda come sei sudato. Vuoi finire in ospedale ancora? Il meraviglio di lei che è un adulto. Non ha visto cosa gli è successo quando giocava? Non ha un minimo di buonsenso. Potremmo andare a mangiare una pizza stasera. Magari lo diciamo anche a Simonetta. Non è giusto. Io volevo restare. Volevo... Tu non sai chi è Thomas. Chi è Thomas? Un giocatore di pallone. Giocava nel Bayern. La squadra di Beckenbauer. E non mi ci ha fatto neanche giocare. Lui può insegnarmi un sacco di cose che il mister... Io voglio chiederle se lui mi allena. La squadra di Beckenbauer.